ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita l'altra sera vi ho fatto una live così a tradimento annunciandovi la patch 3.0 di no man's sky chiamata anche origins ma in realtà durante l'oretta di live non si è visto granché e mi avete detto molti vivori mi hanno detto cosa hanno aggiunto nel dettaglio però voglio fare questo video per quelli magari un po più pigri o che non hanno voglia di tradurre la pagina direttamente dal sito ufficiale e vi mostrerò le notevoli migliorie migliorie di questo titolo uscita proprio così quasi anche questa a tradimento come patch però la vediamo allora allora la 3.0 hanno aggiunto un universo molto più vario diversità planetarie drammatici nuovi terreni e nuove creature nuove condizioni atmosferiche ma lo andiamo a vedere nel dettaglio ci sono nuovi pianeti nuovi sistemi salari nuovi milioni di mondi incontaminati ci sono ora sistemi stellari non solo a una stella ma anche binari eterni quindi potremmo trovare dei panorami veramente eccezionali con più soli ci saranno nuovi panorami nuove montagne nuove diciamo lo definiscono una proporzione comunque colossale perché ci saranno montagne questo l'avevo già notato in alcuni video proprio montagne in cui si può salire si può vedere un panorama veramente eccezionale quindi hanno migliorato la varietà che questa delle montagne è una cosa che io lamentavo all'uscita ho detto cavoli però non si vedono montagne non c'è che anche qua guardate e si vede hanno rivisto la l'interfaccia utente quindi quella nuovi colori nuove immagini hanno migliorato la grafica è molto più chiara soprattutto quella delle scoperte hanno aumentato in ogni pianeta la ricchezza delle delle cose presenti per dare la sensazione comunque di un mondo pulsante di un mondo vivo di un mondo vario hanno migliorato anche la fauna hanno aggiunto nuove specie tante nuove specie vita selvaggia insomma di caricature di vegetazione adesso prendiamo vedere cloud and weather variety hanno aggiunto le nuvole migliorate le nuvole che ora si vedono muoversi ci sono cieli limpidi ora ci sono cieli nuvolosi si può andare anche con la nave questo l'ho notato già nella live lo potete vedere perché ho notato comunque le nuvole si muovevano anche molto rapidamente era molto ventoso il pianeta su cui ero partito è un pianeta paradiso poi nuove si sono formate nuove paludi insomma con crescita di funghi luminosi hanno aumentato questo l'avevamo già detto più o meno la varietà la paletta dei colori cioè la varietà dei dei colori dei pianeti sono comunque ci sono molti più contrasti ora infatti vedete che solo qua viola un po questo giallino verdino marcio insomma hanno migliorato i teletrasporti che questo va beh tanti lo definiscono un exploit però è una possibilità che dal gioco ed è molto più chiaro così piuttosto che l'elenco classico quindi qua capite anche dove vi porta il teletrasporto soprattutto ve li distingue tra le stazioni spaziali le basi le altre basi e le destinazioni di gruppo abbiamo un miglioramento della foto mod questo mi interessa relativamente con nuovi filtri insomma per scattarvi tutte le foto poi ci sono enormi edifici ora che potete trovare sui pianeti degli hub di vita aliena dove all'interno troverete dei dati dei tesori e direzioni verso rovine perdute quindi indicazioni hanno aggiunto sto delle diciamo storie del background di di storie culture di civiltà aliene in civiltà perdute insomma si vede poi hanno aggiunto le infestazioni cioè forme di vita aliene anomali e crescita di vegetazione e pianeti così saranno comunque abbastanza pericolosi perché appunto un pianeta infestato da qualcosa magari delle piante delle piante rampicanti dei vabbè nuovi effetti di luce atmosferici quindi qua si vede cioè già fighissimo guardate tutti gli effetti di luce edifici anomali abbandonati antichi insediamenti possono essere scoperti sui pianeti e aggiungeranno il range di pianeti disponibili per missioni e esplorazioni questo poi va un po l'interpretazione figo anche questo distruzione tettonica dei pianeti ha causato la fuoriuscita diciamo di vulcani e quindi troverete vulcani attivi tempeste di fuoco e tempeste nuovi item troverete queste cose che potrete comunque distruggere e ottenere parti utilizzabili miglioramento del dettaglio del terreno questo l'ho notato anche se qua non rende tanto ma ho veramente notato anche un'ampia varietà anche nell'erba non è più uniforme l'erba ma comunque ci sono molti più dettagli come vedete anche qua la qualità dei pianeti la qualità sulla distanza di erba flora insomma fiori e così via hanno migliorato il discorso dell'esplorazione cioè ora le esplorazioni dei pianeti sono sotto forma di missioni molto più indirezzate quindi non ci lasciano così aperti al mondo intero l'universo ma comunque sappiamo che cosa dobbiamo fare per completare le varie missioni di esplorazione abbiamo la possibilità di hanno migliorato il portale su qua non ho capito esattamente che cosa però li hanno resi molto più accessibili quindi potremmo entrare in questi portali trovarci in luoghi totalmente diversi la cosa che non ho mai apprezzato tanto di questo gioco il fatto che ovunque noi andiamo l'astronave ce la troviamo lì quella è una cosa che mi fa un po' storciare il naso perché se noi andiamo ci teletrasportiamo alla base stellare l'astronave lì e quindi non paghiamo per decollare il carburante in pratica se torniamo alla nostra base sul pianeta l'astronave lì e se ci teletrasportiamo dall'altra parte della galassia con un portale l'astronave lì invece io avrei fatto ok potete possedere più navi però con un menu passate da una all'altra ne mettete via una ne prendete l'altra però io avrei fatto più navi insieme in modo che vi organizzate e non rimanete a piedi insomma avrei cambiato questa cosa ci sono sciami di meteore ora che potete vedere direttamente dal pianeta e poi ovviamente se voi andrete in quella zona subirete appunto l'attacco quindi vedete che in lontananza si vede ma anche in questo caso siamo sotto attacco anomalie gravitazionali come potete vedere ora e i tornado bellissimi fulmini quindi tutto l'effetto atmosferico è stato rivisto e soprattutto cosa che mi piace tantissimo incontra i planetari con altri alieni quindi prima non ne troverate ora oltre a caratterare sulle stazioni le navi che vedete ora atterrano anche sui pianeti poi un po' banale la cosa nel senso che non camminano in giro non agiscono chissà come ma vedete che poi compaiono come sulle stazioni fuori dal dalla nave insomma lì però è già una buona cosa è stato aggiunto anche una selezione di merci che si vendono al mercato nero quindi potrete vendere e acquistare al mercato nero quindi ma merci magari illegali in alcuni sistemi qua è stato migliorato tantissimo ci sono nuovi aggiornamenti per il multi tool upgrade station quindi ne sono state aggiunte nuove quindi questa è una buona cosa e hanno aggiunto insetti giganti piccoli insetti insomma quindi la vegetazione cioè scusate la fauna diciamo gli insetti sono molto di più ora nei pianeti e quindi i pianeti sembreranno ancora più vivi ci sono robot selvatici insomma come si definiscono quindi potrete trovare i pianeti dove vivono delle creature sintetiche questo va beh ricorda un po horizon zero dawn però insomma ci sono anche queste cose hanno aumentato il comportamento delle creature possono essere viste ora più vicine al terreno insomma quelle che volano insomma quello che ho capito tempeste di sabbia e vabbè quello era sopra e poi i vermi della sabbia questo l'abbiamo visto subito nella live si è visto praticamente immediatamente e dobbiamo fare attenzione e qua è un riassunto di tutto quello che è stato fatto di quello che abbiamo detto insomma vedete soprattutto sui trader i trader ora le navi da commercio occasionalmente atterreranno sul superficie del pianeta questi commercianti vendono un range di merce esotica includendo anche quelle del black market del mercato nero diciamo item di aggiornamento del mercato nero il venditore di rottami trovato sulle space station scambieranno item di contrabbando ok si poi qua un riassunto se volete vedere proprio nel dettaglio tutto quello che è stato cambiato è fissato spero di avervi fatto cosa gradita di avervi portato questo video aggiornamento per quanto riguarda la patch origins come si pronuncia di no man sky e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay lasciatemi commenti qua sotto di quello che ne pensate alla prossima e ciao ciao